E' uno dei tanti pezzi attualmente mancanti nell'organigramma del municipio. Da mesi stretto nella morsa della crisi finanziaria, l'amministrazione comunale sta cercando di serrare i ranghi e attende che si sblocchi l'arrivo, seppur a scavalco, della dirigente Concetta Monia Amato. Sarà a lei ad occuparsi del settore bilancio che ormai il perno di questa fase, l'insediamento del nuovo segretario generale Carolina Ferro risale alla scorsa settimana e a breve dovrebbe essere seguito dall'avvio dell'attività del dirigente Amato che però potrà operare solo per due ore a settimana essendo dipendente del comune di Enna. La Giunta ha autorizzato la convenzione da sottoscrivere proprio con l'ente Ennese. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori sembrano assai convinti delle capacità del dirigente Amato anche in un periodo tanto convulso come quello attuale. Il successore, seppur a tempo, dell'ex dirigente Alberto De Petro dovrebbe iniziare la propria attività in municipio non appena sarà stipulata la convenzione tra i due enti. Le tappe irrinunciabili, almeno a stretto giro, sono le misure correttive. Ancora prima il rendiconto 2021 rispondere alle richieste avanzate dalla Corte dei Conti è essenziale per capire quale strada sarà aperta nel tentativo di riequilibrare le finanze comunali. Il rapporto di lavoro con il dirigente Amato si manterrà fino al prossimo settembre senza escludere eventuali proroghe. In assenza di atti finanziari approvati e con le restrizioni già poste dalla Corte dei Conti non è per nulla praticabile invece l'opzione dell'assunzione di un nuovo dirigente a tempo pieno.